Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6 per questo martedì 16 agosto. L'alta pressione si rinforza al sud e su parte del centro Italia, mentre al nord sul medio-alto tirreno assisteremo all'ingresso di aria più fresca e instabile dall'Atlantico che darà luogo a qualche equazione, qualche intenso temporale, in particolar modo al nord, in Chiamonte e in Toscana. In Abruzzo si prospetta una giornata complessivamente più stabile, in particolar modo al mattino, mentre tra pomeriggio e sera avremo un aumento della nuvolosità e anche la possibilità di qualche equazione o temporale, principalmente sull'Aquilano centro settentrionale e sulla Marsica, con fenomeni localmente intensi, qualche piovasco sul Terramano, altrove maggior variabilità. Le temperature massime tra 30 e 32 gradi, le minime tra 18 e 25 gradi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.